Raccogli i lingotti, in tutto dovrete raccogliere 200 lingotti, un modo semplice è quello di atterrare a stazione tenuta, qui troverete un forziere raro, apritelo, raccogliete i lingotti, poi andate alla stazione, eliminate la guardia, raccogliete la chiave del cavo, entrate nel cavo e li troverete un altro forziere raro e molti lingotti d'oro, altrimenti potete aprire forzieri, registratori di casse o visitare i bunker delle armi o i cavo dell'ultima stagione che in questa stagione li trovate da parti, al loro interno troverete molti lingotti d'oro.